Oh, Blitz! Lei è un boss così fenomenale? Sì, la voglio così tanto, signore! Anch'io! Che dite di una cosa tre? Cosa? Tutto bene, Blitz? Il cazzo enorme! Ma... Che cazzo! Linguaggio, tutti e due! Avrei una richiesta molto speciale. Ah! Senti, ho appena fatto il mio skincare quotidiano, trovati un altro che ti lecchi quel tuo culo piumato! Sarebbe per mia figlia. Ah, beh, dille di lavarselo bene, allora! No, 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 no! Sto portando la mia dorata figlioletta a Lululand! E speravo che voi, in pavidimp, poteste escortarci! Siamo sicari, non guardie del corpo, ok? Se non muore nessuno, non invitarci! Ti pagherò... Con cosa? Soldi! Andata! Eminem sarà porto, andiamo a Lululand!